Queste ultime settimane sono state segnate dalla terribile guerra in Ucraina. È una guerra dinanzi alle nostre porte. Tanti di noi siamo scioccati, tristi, delusi. E tanti in queste settimane si chiedono e come andrà avanti? Lo sappiamo tutti. La guerra non incomincia sui campi di battaglia, ma sempre nei nostri pensieri, nelle nostre parole, nei nostri sentimenti. E purtroppo talvolta la guerra viene anche legittimizzata. Certo, è importante che diciamo un convinto e appassionato no a questa guerra. Però non basta. Noi siamo chiamati a costruire ponti per la pace. La pace è dono, certo, ma la pace è anche impegno. La pace va voluta e costruita giorno dopo giorno. Il primo augurio del Signore risorto la sera di Pasqua alla sua comunità impaurita dietro le porte era La pace sia con voi. Ed è questo l'augurio che faccio a tutti voi per questa Pasqua 2022, per questa nostra festa cristiana per eccellenza, per questo culmine di tutto l'anno liturgico. Pace nei nostri cuori, pace nelle nostre case e tra le generazioni, pace tra i gruppi linguistici della nostra terra. Pace con i vicini e pace anche con la creazione. Buona e santa Pasqua, che sia una Pasqua serena, riconciliata e soprattutto una Pasqua piena di pace interiore. Noi cristiani siamo chiamati di essere costruttori di pace, di volere la pace, di lavorare per la pace. Auguri vivissimi, auguri di cuore. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.